Alle 11 precise tutti i telefoni dei volontari, degli operatori della Croce Rossa del Comitato di Macerata oggi hanno suonato per ricordarci il minuto di silenzio che tutti volevamo vivere insieme in ricordo oggi 18 marzo di tutte le vittime dell'epidemia del coronavirus. Un momento, un ricordo per sentirci meno soli, un ricordo per sentire la coesione tra di noi, per trovarci insieme a ricordare i momenti dolorosissimi che abbiamo vissuto dall'anno scorso fino ad oggi che stiamo ancora vivendo ma nel sentirci insieme, ognuno esprimendo quello che riteneva e ha ritenuto di voler esprimere una preghiera, un ricordo, un sentirsi da lontano abbracciati, uno stringersi simbolicamente la mano per pensare che il futuro ci riserverà dei periodi sicuramente migliori. Usciremo da questa pandemia, riusciremo a farcela, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo avere speranza nella scienza, dobbiamo sapere che siamo un grande popolo e uniti a tutto il resto del mondo. Questo potrà un giorno ricordare, potrà essere ricordato come un momento estremamente doloroso. Stiamo vivendo la pagina più amara della nostra storia recente ma insieme ce la faremo. Dobbiamo ricordare, la memoria è fondamentale. Quella lunga colonna di mezzi militari pieni delle bare dei nostri fratelli a Bergamo non deve rimanere soltanto un ricordo lontano ma un monito insieme, condividendo, condividendo le speranze, condividendo le emozioni, condividendo le esperienze, cercando di vivere e di sostenerci a vicenda, pensando anche agli ultimi, a quelli che in questo momento stanno vivendo situazioni di grande difficoltà, ce la possiamo fare. Noi, volontari di Croce Rossa di Macerata, ricordiamo tutte le persone che abbiamo aiutato, che abbiamo trasportato, alle quali ancora continuiamo a consegnare i viveri, le medicine, rispondiamo al telefono per vivere un momento di vicinanza e di amicizia, anche pur nelle distanze dovute da questa epidemia, ma noi abbiamo voluto ricordare tutti. Ricordiamo e teniamoci forti, teniamoci saldi insieme, perché insieme e uniti ce la faremo. Questo è quello che è emerso dal momento di silenzio, una preghiera a tutti coloro che purtroppo ci hanno lasciato un abbraccio simbolico a tutte le famiglie. La Croce Rossa c'è, ci sarà e anche questo minuto di silenzio ha voluto rivedere, a voce altissima, pur nel mondo che si è affermato, che noi ci siamo.